Buongiorno, non possiamo iniziare un convegno sulla rifrazione senza parlare di quelle che sono le variabilità della rifrazione optometrica e in questo caso dividiamo la rifrazione, e sì la rifrazione scusate, la relazione in due parti, comincio io e poi mi seguirà Claudia. I dati relativi alla rifrazione optometrica sono dati dinamici, dinamici suscettibili di variazione per una serie di motivi. In letteratura sappiamo che queste variazioni sono classificate impreviste, quindi variazioni attese e impreviste. Io mi sono permessa invece di modificare un pochino la classificazione prendendo a prestito una dicitura che è propria degli scienziati per il clima. In in variazioni interne, che sono le variazioni che naturalmente il clima subisce, e variazioni interne, che sono quelle prevalentemente dovute all'azione dell'uomo. Leggendo un articolo sul clima mi è sembrato che la nostra optometria potesse prendere a prestito questa classificazione, quindi me ne sono appropriata, perché la rifrazione optometrica ha effettivamente delle variazioni che sono fisiologiche dovute a quelle che sono i cambiamenti nell'arco della vita dell'individuo e delle variazioni invece che sono esterne, cioè dovute anche in questo caso comunque all'azione dell'uomo. Andiamo a vedere nello specifico la prima variabilità che riguarda l'infanzia sappiamo benissimo essere il processo di emetropizzazione, processo di emetropizzazione che porta l'individuo, il bambino nasce ipermetropi come vediamo e riduce questo valore di ipermetropia dalle due diottrie presenti alla nascita fino a arrivare all'incirca, come sappiamo bene, a quella che viene chiamata l'imetropia che non è altro che auspicabilmente una ipermetropia di mezza diottria all'incirca sugli 8-10 anni. Auspicabilmente perché sappiamo che l'ipermetropia è un protettivo della miopia, per cui è bene che sia così, è fisiologico e deve essere così. Queste variabilità sono dovute al controllo, avvengono sotto il controllo del feedback visivo e riguardano le strutture corneali, la lunghezza assiale e il potere del cristallino ovviamente. Andiamo a vedere che cosa succede nello specifico sempre nell'infanzia per quanto riguarda l'astigmatismo. L'astigmatismo come vediamo dall'immagine subisce anche questo delle variazioni costanti, qui abbiamo in questo grafico i dati relativi dal primo mese di vita fino ai quattro anni di età, vediamo una prevalenza di un astigmatismo contro regola che però va via via sottigliandosi e quello che vediamo poi proseguendo nell'arco della vita, nel prima barra del grafico, nella fascia di età dai 3-10 anni, questo astigmatismo contro regola si va sempre più a ridursi per dare spazio a un astigmatismo secondo regola che è contrassegnato dal spazio bianco con tanti puntini. Questo è anche in questo caso auspicabile che questo avvenga fisiologico, dovrebbe essere appunto, e alcuni autori dicono che se in questa fascia di età è presente invece un astigmatismo contro regola, questo potrebbe bloccare il processo di metropizzazione e portare poi a una svilupparsi della miopia o nei soggetti già miopi ad un incremento della progressione della miopia. Ma andiamo avanti nelle fasce di età, vediamo che a iniziare dai 40 anni inizia di nuovo, si torna un po' indietro e si inizia a rivedere, a ritrovare un astigmatismo contro regola che superando i 60 anni diventa dominante rispetto a un astigmatismo secondo regola. Questo avviene per l'isteresi della superficie corneale anche perché il peso e la tensione delle palpebre inizia a ridursi e questo comporta appunto questo tipo di variazione. Questi sono dei casi che tutti noi abbiamo sicuramente incontrato nella nostra attività clinica, sono due signore, una è mia madre, era mia madre e una è mia suocera, che sono state valutate a distanza di 20 anni e come vediamo l'astigmatismo che inizialmente 20 anni prima era un astigmatismo piuttosto regolare di lieve entità è aumentato sia di potere che di orientamento e queste sono variazioni fisiologiche, cioè se le incontriamo e tutti noi le incontreremo, le incontriamo sempre, non dobbiamo preoccuparci di questo tipo di variabilità, mentre variazioni dovute a patologia sono variazioni che come vediamo in questo caso portano questo ragazzo ad avere una refrazione a 18 anni, una refrazione astigmatica assolutamente ininfluente, ad avere invece una modifica dopo 14 anni prevalentemente a carico dell'occhio sinistro dovuta a un cheratocono bilaterale con prevalenza in occhio sinistro. Ritorniamo all'equivalente sferico sempre nei soggetti adulti, vediamo nel primo grafico questo andamento di aumento dell'ipermetropia a partire dai 45 anni di età fino ad arrivare ai 75 anni, con specularmente un abbassamento della miopia nei soggetti miopi, questo è una condizione fisiologica di variazione dell'equivalente sferico dovuta a quello che viene detto il paradosso del cristallino, cioè il cristallino che diventa più convesso e quindi ci aspetteremo un aumento della miopia o un abbassamento dell'ipermetropia, ma contemporaneamente si riduce l'indice delle frazioni della lente e il cristallino si posiziona leggermente più avanti, questo comporta questa tipologia di variazione. Questo potrebbe esserci utile nella clinica perché per esempio nei pazienti che si sottopongono chirurgia refrattiva per questi pazienti è interessante come soddisfazione del trattamento non solo sapere di quanto si riduce il difetto visivo, ma anche la stabilità di questa condizione nel tempo e quindi il nostro contributo potrebbe essere quello di informare le persone di quelle che potrebbero essere le future variazioni. Ma la refrazione varia in modo simmetrico tra i due occhi? Allora la letteratura ci dice che no, non succede questo, cioè succede che la refrazione subisce una asimmetria. La prevalenza, la gravità dell'anisometropia aumentano sia con l'età, sia con la presenza di cataratta e anche con l'entità della metropia. Ogni dieci anni le probabilità che l'anisometropia aumenti ha questa variazione del 60% ogni dieci anni, quindi un aumento del 60% ogni decade, con conseguenti problemi nella visione binoculare, quindi nella stabilità binoculare e anche un aumento della percentuale di cadute negli anziani. Anche questo dovrebbe essere un focus che dovremmo tenere in considerazione nella nostra pratica clinica. Ho riportato un caso che per appunto mi è successo proprio pochi giorni fa di questa signora che avevo visitato nel 2019 con una metropia praticamente inesistente che il 24 aprile, giorno prima della liberazione, ha una anisometropia anti-ametropia, cioè l'occhio destro è diventato miope, una media bassa ametropia dovuta a una cataratta mentre l'occhio sinistro è lievemente ipermetrope. Riguardo invece alle variazioni esterne, quindi alle variazioni dovute in questo caso all'ambiente, all'influenza ambientale, sono interessanti i dati del refractive error study in children. Sono stati eseguiti la rifrazione encyclopegia su un numero consistente di bambini, di ragazzi tra i 5 e i 15 anni, in una popolazione di otto siti geografici differenti, io ne ho riportati solo i due più estremi. In questo grafico vediamo i dati relativi a un distretto rurale del Nepal, bambini che stanno molto all'aria aperta, giocano, poca scolarizzazione, vediamo che nelle barre non è presente quasi per niente miopia, mentre invece questi dati relativi a una città della Cina dove la vita è tutt'altro che svolta all'aria aperta abbiamo invece un aumento della miopia nell'arco degli anni fino ad arrivare ad essere prevalente in adolescenza. Variazioni esterne, questo è uno studio che ancora deve essere diciamo un po' rivisto forse, però è uno studio molto corposo, uno studio epidemiologico dove è stato presa in considerazione l'associazione tra errore di rifrazione e 18 diversi farmaci. Come vediamo nel grafico a barre circolari la zona con i colori viola riguardano i farmaci, l'azione dei farmaci anti glaucoma che è stato visto dagli autori portare a un aumento della miopia anche di una o due diottrie, gli autori comunque nelle conclusioni si chiedono se questo sia un effettivo effetto primario del farmaco oppure sia l'aumento della pressione che sappiamo nel glaucoma portare comunque a miopia, questo era un dato che già conoscevamo e nella nella zona invece che vediamo contrassegnata dal blu farmaci antidolorifici che usiamo spesso in tanti, ora in questo caso in maniera prevalente ovviamente all'arco della vita, portare a una ipermetropia mediamente più alta di una diottria. Anche in questo caso dobbiamo ancora indagare se l'effetto è dovuto al farmaco o al dolore cronico che può comportare un'azione sull'accomodazione. Io ho finito la mia parte e cedo volentieri alla mia collega e amica Claudia, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il direttore e tutti gli organi dello Zaccanini per l'invito e ringrazio Laura perché fare un lavoro a quattro mani a volte potrebbe essere complicato, invece con lei è stato grazie a lei è stato molto arricchente. Detto questo vediamo quindi altri due aspetti nella variabilità della refrazione che sono l'approccio strumentale e l'approccio metodologico, quindi metodo e strumento e per fare questo quindi ripartiamo, ripercorriamo un attimino quelle che sono le evidenze scientifiche un po' più recenti e che ci dicono che la tendenza è quella a spostarsi, ad andare un po' oltre il tradizionale soggettivo che quindi prevedeva la riduzione dell'annebbiamento, quindi la riduzione del positivo e spostarsi su metodi di refrazione automatizzata, quindi sempre soggettiva ma automatizzata e strumentazioni invece più genericamente oggettive. Questo perché ormai sicuramente i metodi automatizzati e oggettivi sono più rapidi, quindi sono più veloci e poi perché ormai ci sono sul mercato strumenti che veramente hanno un potenziale molto alto, soprattutto nel controllare la variabilità delle misure. Quindi questa è un po' la tendenza che stiamo osservando e per esempio sotto vi ho riportato un altro studio del 2023 che confronta le misure oggettive alla refrazione, quindi l'autorefrattometria, alla refrazione soggettiva e ci dice che effettivamente i dati di acuità visiva ritrovati con una metodologia e con l'altra sembrano confrontabili. Quindi sempre stando avanti, sempre stando sul discorso refrazione oggettiva, refrazione soggettiva, confrontiamo e stando su pubblicazioni sempre medio recenti, confrontiamo il dato ottenuto tramite autorefrattometria senza l'utilizzo di cicloplegia e il dato in refrazione soggettiva su un campione, con questo RCT del 2024, su un campione di 1395 partecipanti in cui è emerso, con il quale è emerso, che negli ipermetropi, nei miopi e nei soggetti assigmatici il valore di miopia era più basso nella rilevazione soggettiva, il valore di ipermetropia negli ipermetropi era più basso nella rifrazione soggettiva e così anche per il potere dell'assigmatismo. L'ultimo, l'unico valore che rimaneva invece confrontabile tra le due misure era quello dell'asse. Questo studio è stato svolto per la maggior parte su soggetti di sesso maschile, quindi diciamo che non si è tra l'altro del 2024 fatto su un campione di militari dell'esercito israeliano, in realtà le misure per ovvie cose sono precedenti, quindi sono state prese nel 2018-2019 e quindi il senso di quello che stavo dicendo è che la tipologia di dimarcatore biologico può avere un'influenza sulla misura accomodativa, quindi se questi dati sono validati e sono validi per il sesso maschile non è detto che su un campione più ampio con una giusta percentuale di soggetti appunto di sesso femminile si potrebbero trovare delle risposte differenti perché appunto l'ampiezza accumulativa nelle donne risulta essere maggiore. Sempre in merito a questo ho aggiunto un'altra evidenza un pochino più vecchia, 2022, studio trasversale, in cui invece si aggiunge la refrazione in cicloplegia, quindi nel secondo studio viene confrontato il gold standard, quindi refrazione soggettiva, con la refrazione oggettiva in cicloplegia senza cicloplegia e la berrometria. Prendendo come gold standard appunto la refrazione soggettiva emerge che i dati dell'oggettivo in cicloplegia sembrano essere in accordo per quanto riguarda la componente sferica mentre i dati di refrazione oggettiva senza cicloplegico sono più in accordo per quanto riguarda la componente cilindrica, quindi l'assigmatismo. Per cui, mi dimentico sempre, clicco sullo schermo per andare avanti, per cui quando questa relazione doveva concentrarsi come abbiamo valutato con Laura sull'aspetto di metodologia e di strumentazione, ci sono oltre al grande confronto tra soggettivo e oggettivo, ci sono una quantità immensa di metodi e una quantità immensa di strumenti che possono essere confrontati e probabilmente per confrontarli tutti dovremmo rimanere qua fino alla fine dei workshop di domani. Non potendo farlo, allora ho pensato di mettere in luce un aspetto di associazione tra metodo e strumentazione. Il senso qual è? Quando noi usiamo una strumentazione, una qualunque strumentazione nella nostra pratica, ci associamo una parte metodologica e questo non è assolutamente banale. Se è banale nella ricerca, quindi quando viene effettuata una ricerca si fa, si utilizza uno strumento con una grande attenzione al metodo con cui lo strumento viene applicato, nella clinica questo è tutt'altro che scontato. Questo è per esempio il caso dell'autorefrattometria. L'autorefrattometria ha, come dice quest'autore, degli aspetti positivi, quindi delle perle e delle insidie, dei trabocchetti e questi trabocchetti sono di più svariati, quindi abbiamo il fatto che il soggetto potrebbe non essere ben allineato allo strumento, che possa avere degli ammiccamenti diciamo non naturali eccetera, ma il problema principale dell'autorefrattometria è che se non eseguita in cicloplegia, e questa è la realtà dei centri in cui lavora chiaramente la figura dell'ottico optometrista, nel momento in cui non è eseguita con cicloplegia ha un bias che è quello dell'accomodazione, cioè quando siamo davanti all'autoref, anche se sappiamo, ci stiamo guardando la mongolfiera che è a distanza, il nostro sistema visivo è portato comunque ad accomodare. Questa Cochrane che c'è di lato ci dice attenzione, dobbiamo ricordarci di dire al soggetto che deve guardare una miera a distanza, la mongolfiera eccetera, e fin qua tutto bene perché se faccio appoggiare una persona mentoniera gli dirò anche che cosa deve fare, però poi devo stare anche molto attento a fare la seconda parte, cioè a suggerire di rilassare lo sguardo e di non sforzare. Questa parte in realtà può essere dimenticata, passa inosservata, in realtà la potenzialità dell'istruzione al soggetto ha un forte impatto proprio sulla variazione della refrazione ottenuta con questo metodo. Sono state revisionate le tipologie di messaggio che io posso trasferire alla persona ed è emerso che non tutte hanno lo stesso effetto, quindi se io confronto non sforzarti piuttosto che fista, piuttosto che guarda in modo naturale, evinco che le diciture che mostrano realmente una differenza di risposta sono non sforzarti e fissa. Non stiamo dicendo che la parola è fondamentale, cioè il termine esatto è fondamentale, perché sennò dovrei fare, bisognerebbe validare delle parole specifiche per ogni diciamo idioma, per ogni lingua. In realtà basta che il concetto sia espresso in maniera molto molto chiara, quindi bisogna trasferire che il soggetto non deve sforzare e deve appunto rilassarsi. Questo aspetto è valido per la refrazione lontana ma è altrettanto valido anche per la refrazione vicino, quindi se parliamo di variabilità dei dati nella refrazione dobbiamo parlare anche di quello che succede da vicino. La potenza dell'istruzione data al soggetto ha un effetto sulla variabile accomodativa e quindi anche nelle misure da vicino. Questa review del 2019 fa un overview, sempre per usare un inglesismo, degli attuali metodi di misura utilizzati appunto per valutare la refrazione da vicino e ci dice che anche qua la tendenza è quella a preferire metodi oggettivi perché i soggettivi sovrastimano l'ampiezza dell'accomodazione e quindi sottostimano l'addizione per vicino. Inoltre ci aggiunge che bisognerebbe standardizzare i metodi di rilevazione per poter permettere il confronto. Se noi abbiamo tanti metodi e non sono ben standardizzati il rischio che poi la quantità di confronti da fare diventa veramente incredibile. Nonostante questa spinta verso l'oggettivazione aggiungiamo però che ci sono altre altre referenze in bibliografia come invece quella che vedete all'estra che dicono attenzione il metodo attuale che dà una miglior risposta sia in termini di miglior visione da vicino che come miglior compliance del soggetto e ancora l'incremento del potere positivo da vicino. Quindi vuol dire che io metto la persona, prendo le lenti con la refrazione lontano, prendo le mie lenti positive e le aggiungo fino a che il soggetto non vede bene il target a 40 centimetri. Nonostante questo nel confronto tra retinoscopia dinamica, metodi con ampiezza accomodativa e appunto IPL che sta per aumento del potere positivo, abbiamo comunque una variabilità di dati che raggiunge al massimo le 0,50 diottrie. Se tutto questo è vero, è pur vero che però c'è una parte, una componente che è aggiunta dall'operatore. Questo screening effettuato su 5.000 soggetti ci dice che in realtà delle refrazioni eseguite in clinica il 45% vengono modificate dall'operatore, vengono modificate per la maggior parte con modifiche lievi e in altra parte con modifiche più ampie. Questa slide che mi ha appunto prestato Laura, chiude bene il nostro discorso perché ci suggerisce che quindi è importante il giudizio clinico ed è importante che per effettuare un giudizio clinico opportuno l'operatore sia un operatore esperto e in realtà non intendiamo un operatore esperto solo in senso anagrafico ma lo intendiamo anche come operatore che sia aggiornato, che si aggiorni. E chiudo, visto che abbiamo iniziato con Boris, chiudiamo con Mark Rosenfield che in questo editoriale del 2021 cita appunto Boris e che ci dice che la refrazione è ancora il cuore dell'optometria e che è una colpa diciamo del del clinico e del ricercatore sottostimare l'importanza che una prescrizione quindi che un semplice occhiale può avere sulla vita dei soggetti. Conclude sempre Rosenfield dicendo le aree di applicazione in optometria è ammirabile che siano in continua espansione, però bisogna sempre ricordarsi, non perdere di vista, usa proprio il gioco di parole, che l'area della refrazione è l'area per cui noi siamo unicamente e quindi sottolineo un po' questo unicamente qualificati. Grazie per l'attenzione.